E' tutto pronto per la rappresentazione teatrale del Marchese di Ruvolito di Nino Martoglio, appuntamento previsto per domani e domenica al Teatro Comunale Eschilo sul palco, dopo tanti mesi di prove, docenti, genitori ed alunni dell'Istituto Scolastico Paolo Emiliani, giudici, grazie alla collaborazione dell'Associazione Grada Team da anni impegnata nei progetti di drammatizzazione inseriti nel POF. Siamo assolutamente fieri e orgogliosi di essere riusciti a fare citare niente che una dirigente scolastica che è veramente la prima volta in Italia che viene questo. Siamo molto orgogliosi di lei come dirigente ma vedrete anche come attrice è straordinaria. Il coinvolgimento poi dei genitori è strepitoso, dei docenti, degli alunni e anche dei collaboratori. C'è tutta la scuola che partecipa. Questo per noi è la grande conquista per eccellenza. La regia è affidata ad Alberto Lo Scalzo. C'è l'emozione, c'è ed è pure tanta. Sono molto emozionati proprio perché è la loro primissima volta, però abbiamo lavorato tanto, sono passati diversi mesi dall'inizio delle prove e quindi insomma siamo pronti e speriamo che possa andare tutto bene. Il ricavato della rappresentazione teatrale sarà devoluto in beneficenza e permetterà di acquistare libri di testo da consegnare in accomodato d'uso agli alunni bisognosi. Quando Monica e Alberto ci hanno proposto questo progetto ambizioso che bene si inseriva nella nuova genitorialità, che è un progetto nostro del PTOF, incoscientemente abbiamo detto tutti di sì, ma veramente con grande incoscienza. Il presidente del Consiglio d'Istituto, Vincenzo Mondello. Visto la nobiltà della causa è andato tutto bene, speriamo che in queste ultime due giornate, due serate in cui saremo all'Eschilo, vada tutto bene altrettanto. Location, teatro Eschilo di Gelo, gli appuntamenti sono il 7 e l'8 maggio, sabato 7 alle ore 20 e 30, mentre domenica l'8 maggio è alle ore 18. Ci sono ancora posti disponibili? Pochissimi e per chi si accontenta solo nella galleria del secondo piano. Ma i biglietti li avete comprati tutti voi? No, no. Ma nemmeno per sogno, guarda, li ha comprati tante gente solo per la curiosità di vederci. Grazie.